Eccomi qui a descrivere il mio 39esimo viaggio in astronave, un viaggio interessantissimo alla scoperta delle leggi cosmiche e della forza che lo spirito ha di guarigione. 39esimo viaggio in astronave le leggi della guarigione. Siamo giunti al mio 39esimo viaggio in astronave ed inizio solo ora a prendere la piena consapevolezza di tutto ciò che abbiamo realizzato con il loro costante aiuto e sostegno per questo grande piano divino per la Terra così grande e così importante, che vivo attraverso questo mio corpo in contatto con le civiltà extraterrestre delle Pleiadi di Maya Amrir di Maya, di Alpha Centauri Ashtar Sheran, di Orione Arcarus, della Lira Erne e di Sirio Salusa ancora una volta mi ritrovo a salire a bordo delle astronavi del concilio pleiadiano nordico dove Aaron Sumas è il mio tutor in astronave e mi insegna con amore divino ciò che occorre ancora compiere per condurre gli uomini alla salita verso la nuova coscienza dell'amore unitario. Siamo sulla cima di un altro monte sacro questa volta in provincia di Bergamo, il monte Misma rappresenta un luogo prediletto dal divino in quanto diversi sono i luoghi dove è apparsa la Madre Divina, luogo di preghiera ma anche di notevoli avvistamenti UFO in passato. Non è certo una coincidenza il desiderio dei fratelli cosmici di chiamarmi ad incontro sui monti sacri della nostra Italia comprendo ora, che dietro a questo movimento di basi extraterrestri vive l'intento di farci conoscere quei luoghi dove in futuro nasceranno le diverse comunità di nuova umanità e ascensione. Dalla montagna vidi il sacro, dalla cima incontrai il divino espandersi come raggi di sole sopra ogni luogo e tempo. Dall'alto entro nel mio interiore e scopro quanta fede vive nel scalare la vetta più alta. La cima del Maestro interiore si trova nel luogo sacro dove tutti noi riposiamo nel momento del dialogo di coscienza. Davide Russo di Esi Amati fratelli, che seguite con amore i miei scritti ed i miei racconti sappiate che ciò che non crede la mente il cuore segue più facilmente. La mia vita si è fatta uno con l'essere spirito, che vive dentro ad ognuno di noi, ed io a merire di miei viaggi siamo divenuti una cosa sola. Coloro che conoscono queste vibrazioni trovano in queste mie parole prossime, che mi accingo a scrivere verità e luce il mondo come lo è oggi ha troppa necessità di essere guarito ma per essere guarito, la luce chiama uomini guariti a guarire altri uomini per essere poi solo pace, che si espande come antibiotico naturale sul mondo e sulle anime. Io sono Amrir. In questo mio trentanovesimo viaggio ho incontrato tutto quell'amore, che pervade questi meravigliosi esseri di altri mundi mai come in questi ultimi due viaggi ho potuto contemplare la perfezione del volto di Aaron Sumase Pleiadiano Nordico, che segue la mia universale educazione spirituale attraverso una scuola stellare, che poi con amore attraverso di Amrir di Maya si riversa su questa terra assetata di liberazione e pace. Ancora vive dentro di me il ricordo del volto amorevole di un essere così meravigliosamente pacifico e pieno di attenzioni per me che al pensarlo immagino un lago calmo al suo tramonto e il vento soffiare dentro di me apprendomi nuove immagini di quel volto così ricco di pace e amore, capace di creare dentro e fuori di me altrettanto amore ed altrettanta pace. I suoi capelli quasi bianchi permeati dalla luce della sua essenza presente rappresentano la purezza dei suoi pensieri. I suoi occhi cangianti di colori di una cromatura a mio sapere inspiegabile rendono quel volto, ormai rimasto fotografato dalla mia mente umana, il volto della saggezza interiore capace di generare una primavera di pensieri altrettanto puri. Parla Aaron Sumase nel mio 39esimo viaggio in astronave. Figlio, figlio caro, creatore di speranza ed amore io ed il concilio superiore di Alcione ti diamo il nostro benvenuto su questa nave, si è in te la calma del corpo e si muove in te la forza dello spirito, capace di muovere e guarire ogni tessuto della luce creazione. Essere nuovamente lì in compagnia di un essere di un altro mondo era per me motivo di forza interiore sapere che ancora una volta potevo stare con questo meraviglioso essere Eloi mi dava pace e serenità per tutto il lavoro, che ancora devo svolgere prima di lasciare il mio corpo mortale. Davide Aaron, grazie, grazie per questa meravigliosa esperienza, che ancora attraverso della mia mente stento a credere. Grazie per avermi ancora chiamato, sono estremamente felice di essere stato in qualche modo scelto dal grande spirito arte e matematica per essere strumento di pace e di amore. Aaron, questi luoghi dove voi mi chiamate hanno una importanza primaria vero? Decido di chiedergli e di fargli delle domande a questo meraviglioso fratello galattico in quanto ormai vive tra noi dall'ultimo mio trentottesimo viaggio un'amicizia indelebile nel tempo. Tante erano le cose e sono le domande le quali avrei voluto ricevere risposta ma Aaron intraprese un discorso ancora più importante di tutte le mie domande e mi rispose con pieno amore e grande gratitudine per il mio essere lì con lui, creando in me una espansa saggezza. Parla Aaron Sumase nel mio trentanovesimo viaggio. Ben giunto nel luogo che ti abbiamo indicato. Sei un guerriero che lotta senza spada e senza pensarmi, sei un vero guerriero di luce perché il guerriero della luce non combatte nessuno ed apre la strategia al divino piano della opera grande che deve ancora compiersi sul vostro piano di coscienza. Comprendo che esaudire ogni nostra richiesta a volte possa sembrarti difficile e quando tu, con tutto te stesso, crei ed apri i piani di consapevolezza al grande piano di luce, noi ti siamo infinitamente riconoscenti. Il tuo libero arbitrio vive sempre e ogni volta che il tuo cuore agisce nell'ascolto e nella preghiera, noi ti ascoltiamo. Pace a te guerriero del giorno sulla notte, pace a te figlio dello spirito, che scopre ad ogni salto il luogo dove è saltato. Essere mutaforma in te vive il Maestro, che ti ha cresciuto e consapevole ti ha donato saggezza antica di vite antiche. Siamo in un immenso campo di forze che agiscono su ciò che deve compiersi e non posso che sentirmi realizzato al pensiero, che attraverso la nostra scuola tu possa essere un equilibrato amico della pace e della saggezza interiore per sé e per gli altri. Aaron sembrava lusingare il mio sì costante alla missione, forse, anzi sicuramente aveva sentito i miei momenti di solitudine e scoraggiamento ed ha voluto ritemprarmi incoraggiandomi, sta di fatto che ero ancor di più colpito dal suo sguardo. Mai come in questi ultimi due viaggi potevo guardarlo così intensamente quasi potevo scorgere il miracolo cangiante dei multicolori presenti nella sua iride e mi perdevo in quella ruotare di colori che nacque il desiderio di chiedergli ancora, ed ancora. Aaron, perché ora posso guardarti così dentro ai tuoi occhi mentre nei viaggi precedenti riuscivo sempre e solo a vedere il tuo abbagliare aurico e intravederti dentro al tuo splendere di luce? Perché ora riesco a vederti così nei dettagli? Avrei piacere amico mio dell'universo, avrei piacere di sentire qualche risposta alle mie innumerevoli domande. Capisco, e sento ma a volte vorrei poter sentire dentro di me le risposte a ciò che la mia mente umana ancora non riesce a consapevolizzare, lascia che io ti guidi essere della Terra, tu che hai lasciato spazio al sacro dentro di te ora puoi sentire la risposta. I tuoi occhi sono immersi nella legge del 7, la tua pupilla si dilata di 7 mm nel tempo creato dal Dio arte e matematiche e se ciò non fosse, nulla si reggerebbe nella sua vibrazione, che è luce. Il tempo è creato dalla luce, che è la prima forma manifesta del pensiero di Dio arte e matematica in ogni luogo le forme e gli spazi sono creati dalla dilatazione del grande occhio a tempo di creazione e perno, che accoglie ciò che crea osservandolo senza mai battere ciglio. Conciò figlio caro voglio dirti questo. Colui che attraverso della sua mente riesce a cogliere ogni luogo di quegli spazi scopre la legge del 7 che vive nel continuo osservare di Dio arte e matematica se il tuo occhio non fosse capace di vedere i tempi della creazione sareste come angeli, che non vedono altro che l'eternità del tempo e della luce. Ancora una piccola coincidenza, che potrà farti riflettere amorevole figlio di Tiamat. Il vostro occhio è formato da quattro elementi. Cornea, humor acqueo, cristallino, humor vitreo. Essi sono quattro perché quattro sono gli elementi importanti, che creano la vostra dimensione. Terra, acqua, fuoco, aria. Ciò non è casuale, per vedere quattro elementi occorre avere quattro possibilità e quattro forze, che reagiscono alla loro vera natura. Tutto il vostro corpo è una creazione spettacolare, il Divino ha creato la meraviglia nel creare la vita e se ne è compiaciuto così tanto, che ha continuato a creare forme di vita basate sull'attuale legge del suo pensiero, tempo della sua luce. Aramon figlio della nuova Terra. Figlio caro ora tu vedi me perché il tuo corpo è entrato nella dimensione nuova del tempo, che è quella quinta possibilità di vedere il quadro 4 per intero il quadrante o dimensione. Nello spazio pensante del tempo tu puoi vedere tutta la creazione e spostarti all'interno di essa e noi questo lo facciamo e lo facciamo con le leggi, che vivono in quello spazio detto del tempo. Colui che trova il quinto elemento dentro e fuori di sé scopre il segreto della vita. Nel mentre che io parlavo telepaticamente con Aron Sumas e sentivo perfettamente la sensazione, che lui stesso probava, lui vedeva tutto quello che io vedevo in realtà io vedevo e capivo grazie a lui. Restai immobile nella luce dei suoi occhi, domande e risposte continuavano senza fine. Il dialogo fra noi si fece così ampio fino a toccare ogni sfumatura ed aspetto dell'esistenza. Per un attimo la mia mente ritorno di nuovo alla legge del tempo, della creazione e alle leggi che governano la nostra amata Terra e lui instillo in me tutta la sua conoscenza e sentivo la sua realizzazione nel condividerla con me. Accettai e compresi che tutto è retto da leggi sacre, leggi spirituali, che agiscono sullo spirito e leggi fisiche, universali e leggi che ne ho percepito solo la loro pura bellezza. Quando l'uomo della Terra riacquisterà la memoria di tali leggi, imparerà come usare le loro forze ed acquisterà potere sulla materia e sugli elementi divenendo come noi Elohim e Divino al Divino, Creatore alla creazione. Ogni forma, vibrazione, suono, luce, spazio, tempo ha una propria legge ed intelligenza, che racchiude nel proprio grande sé tutto il corpo dello spirito e della sua vita riscoprendone la capacità di provare in ogni istante l'essenza, che le accomuna la pura gioia dell'essere in sé quando Dio arte e matematica parla a questi elementi intelligenti, essi rispondono ad una chiamata generale ed universale, si muovono per intelligenza propria riconoscendo nella voce, che chiama, il Padre, chi li ha generati ed creati nel loro insieme. Io sono Amrir di Maya. È attraverso delle grandi leggi, che il tessuto universale si muove come un oceano di onde e consapevoli di lodare Dio. Colui che scopre il quinto elemento scopre la veduta universale e ne gioisce nel vederne l'interezza nel suo completo essere manifesto. Colui che viola anche solo una di queste parti di oceano nuota contro la corrente originale, che la generata ed il suo essere compierà enormi sforzi. Ciò che non regge qualcosa non può esistere Io sono Amrir. Ciò che regge e crea la forza allora può esistere. Ciò che va contro la prima forza ad un certo punto per amore dell'essere intero e completo viene annullato e sciolto nell'insieme per essere messo a forza ed ad origine nell'insieme. Si è creati e generati intelligenti ed è la stessa intelligenza, che non permette di andare contro di essa perché altrimenti, che intelligenza sarebbe? La saggezza aumenta saggezza, la stupidità crea altra stupidità. Ciò che è banale e stupido per te può essere però saggezza per i mondi ed i regni più bassi al tuo, pertanto occorre avere rispetto nell'interezza dell'espressione dell'amore, che si apre nel suo completo modo intelligente di essere. Nel momento in cui queste verità mi venivano rivelate il mio spirito avrebbe voluto urlare di gioia. Aaron vedeva insieme al mio guardare i suoi occhi, che comprendevano tutto ciò che mi stava mostrando. I miei occhi allora guardarono i suoi ancora più in profondità e vidi che il Dio Supremo aveva creato moltissimi mondi ed universi, e che per lui ogni mondo ed ogni universo o altro non erano che elementi intelligenti ossia le forze stesse e le leggi stesse che le reggevano in vita.